benvenuti ad un nuovo episodio di dell'ariatto io sono michele una delle voci di questo progetto e anche del lato viola del ring oggi sono qua in solitaria per parlarvi di new blood new blood 9 show della stardo mandati in onda venerdì disponibile gratuitamente sul canale youtube della della promotion e che noi abbiamo visto in diretta venerdì sera proprio sul canale twitch del lato viola del ring e quindi sono qua un po per darvi un premio impressione un po quello che ho pensato durante la visione di questo show per quelli che non erano in live venerdì è un resoconto più o meno di quello che è successo facciamo una review abbastanza colta perché poi essendo da solo normalmente viene sempre un po più colta giustamente anche ci siamo divisi un po i compiti questa settimana lui si è dedicato più alla parte maschile io ho deciso di fare la review di new blood perché giustamente ho passato due ore e mezza nel mio tempo a guardare uno show è venuto anche piuttosto bene e quindi perché non parlarne cioè bisogna cogliere l'occasione una volta che hanno imbuoccato bene la strada del new blood perché secondo me negli ultimi due e tre show è andata piuttosto bene hanno capito più o meno cosa bisognava fare in questo tipo di prodotto lo stanno portando avanti abbastanza bene qualche alto e basso ma quello è normale il fatto di usare per lo più l'ottatrice della stardo me le sta aiutando anche a portare avanti alcune storie alcune idee secondo me anche carine all'inizio è nato più come un progetto per far vedere quelle al di fuori della stardo ma quindi era un po fino a se stesso adesso hanno più o meno ho capito dove vogliono andare a parlare e stanno lavorando bene partiamo un po più da new blood 9 partiamo dal primo match che c'è stato il po me c'è quello tra mirai e amici re che hanno battuto a yasakura e anako mirai amici re sono le campionesse di coppia non stanno brillando come campionesse perché non hanno incentrato benissimo il regno almeno la partenza però giustamente hanno fatto un ottimo lavoro come aiutanti diciamo delle due ruchi a yasakura e anako che stanno lavorando bene anche loro stanno facendo un ottimo lavoro una meglio dell'altra dal mio punto di vista a yasakura che aveva iniziato in come quella che potenzialmente poteva andare più avanti se è un attimo arenata se una bloccata deve migliorare alcune cose a livello proprio anche di muse da livello di a di timing a qualcosina da aggiustare dall'altra parte anako che probabilmente era anche sono anche aiutata un po dalla staff comunque la ragazza più alta della della stardom sta facendo bene a un muse che come aveva fatto notare stefano nell'uno degli ultimi lari atti è molto simile a quello delle dc giustamente le due sono le due ragazze più alte della promotion quindi hanno alcune cose abbastanza simili a livello proprio di di moveset di tipo di dilottato torno lo sta facendo male quindi vediamo come come andrà avanti un po la loro la loro storia cosa riusciranno a fare questo questo è stato un buon buon modo per iniziare lo show perché comunque ai due che hanno bisogno di di fare delle gavette di fare della della strada e new blood probabilmente è il posto giusto per fare della gavetta le mandi contro le campionesse di coppia che lavora abbastanza bene insieme devono anche di aggiustare il tiro su alcune cose ma di base vanno abbastanza lisce hanno fatto 10 minuti circa di match è andato tutto bene filato liscio giustamente hanno vinto le campionesse di coppia ma anche l'altra non hanno sfiguato quindi benissimo così e va bene cioè va bene vederle spesso perché comunque più match fanno meglio è hanno iniziato da poco a lottare sia yasakura che anako hanno debuttato nello stesso giorno sono rispetto ad altre che debuttano soprattutto sono abituati in stardom da vedere della gente che debutta molto giovane loro sono già un po più tra virgolette anziane rispetto a non so una vina in una su me che hanno debuttato veramente da giovani loro hanno aspettato un po però la strada ancora lunga possono fare piuttosto bene a proposito di gente che ha debuttato presto abbiamo anche annan e waka che sicuramente hanno debuttato presto in questo caso erano una contro l'altra anana in coppia con saia da abbattuto h e coacu con cui non la conosco molto bene ho recuperato qualcosina in giro ma non troppo quindi sapete io ci metto un po a capire quanto può interessarmi un lottatore una notta trice ci metto un po di tempo però diciamo che non è andato male come come primo match in stanno penso se al pomeriggio di standard di coacu molto atletica molto fisicata e questa cosa l'hanno portato avanti anche durante il match quando si sono affrontate lei e saia ida cosa che hanno portato avanti anche nel post match e che probabilmente 9 su 10 ci porterà un match in singolo tra loro due in un prossimo new blood penso penso già nel 10 comunque è una delle sfide che vedremo prossimamente spero non so sinceramente noi una cosa tipo quella tra saia ida e changiota che hanno fatto qualche qualche episodio fa di new blood che è una cosa abbastanza inguardabile con i post down le prove da bodybuilding possiamo dirlo è non lo so non me non mi è piaciuto quel quel tipo di di match era più da una cosa da star domini showcase con quelle cose un po cringe che cercano di strazzare l'occhio al wrestling più americano possiamo chiamarlo così e quindi niente restate sulla parte joshi fatta bene per versione giapponese che funziona e va bene così anche se uno guarda la stardom è per guardare il joshi non per guardare qualcosa di simile al wrestling americano con i gimmick match cercate di stare sul classico che funziona e va bene comunque sono contento per la vittoria di anan è il secondo pin che riesce a fare il giro di poco lei ha detto che finita la scuola è poi concentrata maggiormente sul wrestling cosa che probabilmente farà adesso che ha finito la scuola era già dato 22 vittorie potrebbe essere un tamponino non indifferente però anche con quelli da tanti anni lotta bene sa fare il suo e quindi vediamo vediamo perché sono sono curioso è una di quelle che nel futuro potrebbe potrebbe prendere in mano la bandiera della stardo conosce bene l'ambiente conosce bene le ragazze che lavorano insieme a lei potrebbe far bene dovrebbe anche decidere di puntare a qualche cintura poi ne parliamo comunque buon match anche questo era la prima volta che si affrontavano c'è qualcuno non sarà mai incrociato con le altre quindi come prima diciamo che è andata bene e quindi ok è uno di quei match che potete anche esaltare ma se vi passa durante lo show in queste due ore e mezza ve lo godete comunque perché ben ritmato e anche qua quei dieci minuti più o meno hanno dato lo stesso minutaggio a tutti i match un buon minutaggio tanni uno che scuola meditava un poettino di meno ma gli hanno dato comunque un minutaggio abbastanza allargato e il match in questione è questo che ok va bene un calcio e maiko zaki hanno battuto wakatsuki ama e sexy dynamite princess match che prima avevo parlato di star domini showcase ed effettivamente poteva essere più una cosa da star domini showcase piuttosto che di new blood va bene così nel senso che comunque ram caicio funziona sempre come personaggio lavora sempre bene maiko zaki come aiutante di ram caicio funziona bene è una buona lottatrice non è una di quelle che fa la prestazione della vita ma il suo lavoro lo fa nel bene nel male è in una stable l'interessante comunque anche campionessa insieme a maio yuki in triple si ha un cittura di bocchetti la locomotive class dovrebbe essere che è veramente bellissima cioè recuperate il mezzo solo per vedere quella cintura perché è una cosa allucinante fantastica è inguardabile ma funziona da parte bianca chiama i sexy dynamite princess che è mai a maria mai scusate maia 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 mi stavo incasinando completamente ma lei a me che non è un can che su ring funziona come personaggio anche come questa sexy dynamite princess è una di quelle mascherate con il tanto saltano fuori negli show quel test della spado è così guardia invece un can che ce la faccio andare bene cito nel senso che possiamo fare molto altro però va bene va bene va bene così match un po troppo lungo dal mio punto di vista maiko zaki a schienato wakatsuki ama che si porta a casa un'altra sconfitta tanto uno in più o nemmeno a lei conta conto poco ma e c'è tipo penso siano centinaia le sue sconfitte quindi fa anche fatica a contarle però beh è il match più debole secondo me della della card che comunque è andata abbastanza bene come card in questo caso è un po peccato però nell'insieme dello show ci può stare arriviamo poi a un match in singolo tra nana e takashi e mai sakurai vinto da nana e takashi che ha schiantato in circa 14 15 minuti mai sakurai anche questo leggermente lungo ma per il tipo di match ci può stare è una di quelle passion injection di nana e takashi che funzionano d'altra parte avevi una mai sakurai che sapete non è esattamente il mio tipo di lottatrice potevano puntare su qualcuno di più in realtà stanno pushando abbastanza ha vinto il titolo 3 os insieme a giulia e tecla non so bene cosa ci vedono in lei ma anche qua ce la facciamo andare bene nel senso che ormai abbiamo capito che ci puntano e quindi non possiamo farci molto altro la netta che ci sta continuando il suo percorso per aiutare magari quello un po più indietro mai sa qua è una di quelle e che si porta a casa la sconfitta poi contro la netta kashi che comunque è un pilastro della storia del joshi soprattutto di quello moderno soprattutto di quello stardo quindi è giusto così mai sa qua e si porta a casa anche l'onore di presentare in un segmento abbastanza orrendo che sembrava uscito dall'epoca vittoriana di presentare i prossimi show di new blood 1 ad agosto 1 a settembre mi siamo al 18 agosto il prossimo non vorrei dire una cagata quindi correggetemi al massimo qua nei commenti se ho cercato la data segmento orribile comunque meglio di quelli che sta facendo ultimamente come promo dove tipo parla del cibo di quello che avrà mangiare dei post match non mi sta piacendo è un personaggio che non riesco a capire non riesco a comprendere in qualche modo sta funzionando probabilmente col pubblico giapponese sta prendendo con me manco per sbaglio stanno facendo anche dei video sui social di lei che va a provare il piatto tipico di quella zona e fa delle specie di recensioni boh non lo so la versione tripadvisor di mai sakura e non mi sta piacendo più di tanto l'hanno legata a giulia e quindi giustamente giulia è in qualche modo in un push perenne per vari motivi in questo caso senti nato dietro si tratta dietro mai sakurai e tecla tecla ok anche se in crescita perché su alcune cose mai sakurai no mai sa qua è per me una di quelle che dovrebbe fanno un passo indietro ma non hanno ancora capito in stardom ci arriveranno più avanti restiamo sui match in singolo abbiamo l'ultimo in realtà del supernova trial series questi match in cui miomasaki dimostrava il suo valore il suo potenziale dopo aver affrontato della gente parecchio interessante arriva ad affrontare la sua tag partner cioè asumi compagna di stable compagna di tag funziona loro come tag il poco che hanno fatto l'hanno fatto abbastanza bene questo è stato un match veramente bello probabilmente il migliore della serata non me l'aspettavo me l'aspettavo interessante non me l'aspettavo così così bello sono cartellato un sacco asumi ha fatto vedere che nonostante l'età che dovrebbe avere la stessa età mi sembra in realtà lei ha diversi anni di carriere in più e quindi gli ha portati tutti i surfing ti mostrando anche un certo una certa strafottenza in alcuni casi che poi si sta perché è stato comunque anche un modo per di rispetto per rispettare l'avversaria miomasaki ha cercato di dare il massimo ha colpito forte deve affrontare un po di più i colpi in alcuni casi ma ci lavorerà andando bene diciamo che sta crescendo come personaggio sta crescendo come lottatrice al problema che sta saltando un po di show un po di match e c'è da capire un attimo il motivo doveva affrontare il 29 maggio mei su ruga per il quinto anniversario proprio di mei in gatto move hanno dovuto cambiare in corsa abbastanza tipo una settimana prima il il match perché lei non poteva partecipare per malattia in realtà due giorni dopo era a new blood non abbiamo ben capito se era infortunato in qualche modo se effettivamente malata si doveva fare delle cure si doveva fare non c'è stato detto anche al che la stardom da questo punto di vista non aiuta tantissimo non racconta esattamente tutto anche sui social non dice tutte le cose come stanno a livello di infortuni quindi vediamo poi nel futuro come andrà avanti mio masachi peccato perché il match contro me poteva venire parecchio bene anche se mi ha detto che l'aspetta quando vuole è pronta per affrontarla nel frattempo ha affrontato il mondo cannazono e il match è disponibile su youtube come tutto l'evento e se voi state guardando di martedì il 6 giugno questo lariatto potete seguirci stasera su su twitch per guardarlo insieme a noi faremo un watch party di un paio d'ora circa per guardare l'evento per il quinto anniversario di mesura quindi vi aspettiamo se lo state guardando dopo il 6 giugno potete comunque recuperarlo su youtube lo show ma senza il nostro commento quindi vedete a voi dipende quando guardate questo lariatto detto questo questo match questo supernova trial series recuperatelo perché hanno dato veramente il massimo e hanno lavorato piuttosto bene piuttosto bene mi piacerebbe capire un attimo cosa faranno loro due perché secondo me nella prossima tag league se saranno ancora in tagli insieme potrebbero fare piuttosto bene potrebbero lanciarsi e non dico vincerla ma arrivare abbastanza in alto nella graduatoria quindi vediamo sono sono curioso perché è un nome su cui ci puntano abbastanza anche a livello di social a livello di di pubblicità mio masachi quindi potrebbe far bene a proposito di tag arriviamo a parlare del titolo new blood new blood tag detenuto da starlight kid e karma che hanno battuto tomo che inava e alzano inava le due sorelle che sono alla seconda apparizione in coppia in stardom l'ultima l'hanno fatta nello scorso new blood hanno lavorato bene la scorsa volta hanno lavorato bene questa volta dall'altra parte aveva una coppia piuttosto importante con quella di stare ti chiede karma e quindi giustamente la vittoria andata alle due con più esperienza e le due che comunque sono di base più stabili in stardom però il match è venuto abbastanza bene mi sono piaciute ha lavorato soprattutto tome che inava che comunque quella che ha più gavetta alle spalle quindi giustamente ha dato un po anche dimostrazione alla sorella di quello che bisogna fare di come bisogna farlo che non ancora neanche una pagina su cage match ha debuttato da pochissimo c'è qualche match a dimostrazione di esibizione su youtube ma c'è ancora veramente pochi in giro quindi non so effettivamente quando ha debuttato ma penso sia una cosa abbastanza recente comunque hanno lavorato bene di questa coppia è un po del panorama già stop out parlo in un video che esce domani per gli abbonati e tra un paio di settimane per tutti quindi se volete vedere un'anteprima abbonatevi al canale twitch del lato viola del ring e avrete a disposizione un lariatto extra a settimana che esce con qualche settimana di di ritardo poi per tutti e quindi cogliete l'occasione anche per abbonarvi anche per quello per restare un po al passo con i tempi detto questo questo match va visto secondo me un po anche per tra virgolette livello storico perché comunque quando è un match titolato è sempre interessante capire un attimo come vanno le cose sia un titolo nuovo come quello tag di new blood ancora di più sei due coppie che funzionano ancora meglio e se invece è venuto bene abbiamo la ciliegina sulla torta stanno le chi del lavora bene con patente chiunque soprattutto da quando è andata in noi dotare ha provato la sua dimensione lavora molto bene karma io la preferisco come indossi nel normale come lo come sacchi in versione karma è un po bloccata un po sim po bloccata a livello proprio di booking a livello di personaggio buona hanno voluta legare a ridotta in questa versione non ho ben capito il motivo ce la facciamo andar bene sì perché comunque poi come l'ottatrice non è niente male al problema poi dei promo che fanno tendenzialmente schifo e però soprattutto perché quel microfono lì che viene cambiano le frequenze ed è orrendo da sentire sembra un cattivo dei film anni 60 va bene va bene vediamo se restavano ancora campionesse perché dopo questo mezzo sono arrivate ben due coppie prima quella di azumi e mio masacchi che si sono menate fino a tipo 10 minuti prima e poi sono arrivate ad affrontare in un faccia faccia le campionesse oltre a loro sono andate anche l'altra coppia di casa stardo che ha vinto un match in questo show cioè anan e saia ida potrebbe essere un modo per premiare un po anan potrebbe essere un modo per premiare un po saia ida che comunque dopo l'infortunio è rimasta un po bloccata c'è da dire che il match potenzialmente può venire molto bene perché è un 3 way con tre coppie interessanti sotto diversi punti di vista e secondo me ci sarà un cambio di titolo il titolo new blood secondo me è uno di quelli che potrebbe cambiare abbastanza spesso dipende un po dal da cosa serve cioè starlet chi dal momento ha un po di cose in ballo in giro da fare quindi non so quanto quanto può restare campionese di new blood quindi potrebbe essere il momento per cambiare per comunque anan e saia ida non hanno moltissimo sono ancora abbastanza indietro a livello di card mio masacchi è poco più di una buca ancora devo ancora dimostrare un sacco di cose assume appena perso il titolo quindi abbiamo due coppie che potrebbero prendersi il titolo new blood a me va bene sia una che l'altra l'importante che venga un buon match ma sulla carta può venire sicuramente bene arriviamo poi al main event di new blood 9 cioè rina capa tutto le dc per il titolo future of stardom sono molto contento che rina sia campionessa sono molto contento che abbia affrontato le dc comunque è stato un più uno abbastanza semplice però è c'è il momento dove rina e le dc hanno una differenza a livello di altezza a livello di fisico non indifferente ed è un modo tra virgolette questo davide contro golia che ha sempre funzionato nel wrestling in qualche modo ha funzionato anche in questo match rina un personaggione può fare molto bene come campionessa può fare molto bene come per portare avanti un attimo questo titolo che comunque ha bisogno un attimo di rispolverarsi dopo un legno di amissore che è stato un po traballante perché comunque amissore era già in una parte alta della card aveva già altri obiettivi che hanno poi il titolo di coppia che poi ha vinto ma aveva affrontato anche saia per il titolo per il titolo della white belt e quindi diciamo che ha rimasto un po in secondo piano il futuro stardom dopo un buon legno di diana adesso è passato alla sorella più piccola una delle due sorelle più piccole rina che può far bene questa è la sua prima difesa il problema è la prossima avversaria la prossima avversaria che a wakatsuki ama che come vi dicevo prima continua a perdere ma in qualche modo viene pushata e in questo caso deve andare per un titolo cosa che non ha assolutamente senso perché per il future of non ci sono delle regole hai un limite di età ma il limite di età è stato sfanculato quando hanno dato il titolo prima amina shirakawa e dopo una settimana ha dato un aghi entrambe con più di 30 anni e quindi non aveva presente senso avere qualcuno di quell'età per il titolo soprattutto qualcuno di l'età come campionessa c'è da wakatsuki ama che anche lei ha più di 30 anni non ne vedo il motivo c'era della gente che aveva più bisogno probabilmente di andare per quel titolo vedi una mia mazaki ma già che poteva andare per il titolo contro ina poter andare cina c'era magari qualcun altro su cui puntare ai comunque le due le due ruchi ayasakua e anako che potevano andare per il titolo cioè volendo le dc anako hanno fatto coppia un paio di volta un paio di volte poteva dire anako che hai battuto la mia mia tag partner ci vengo io vediamo se riesco a vincere e il problema di waka è che potrebbe vincere potrebbe vincere questo titolo sarebbe un peccato un po perché le dai a una che non ha poi tutto questo carisma e tutta questa capacità su ring per portare avanti un regno dall'altra bloccheresti un regno appena iniziato come quello di rina che ha bisogno di fare un po un po di strada perché se no la blocchi la butti indietro in card e finisce nel nulla cosmico hai trovato questa strada di difendere il titolo stardom in new blood è una strada abbastanza utile e interessante cerca di sfruttarla bene quindi lascia il titolo a rina e dalle un po d'avversarie utili e interessanti chiamano non è una di quelle prove vediamo nel prossimo show ci vediamo il match e capiamo come come andranno le cose spero non facciano la cagata di darlo a cazzo chiama ma quello sta un po anche loro fatemi sapere nei commenti cose come vi è sembrato questo show se vi è piaciuto cosa ne pensate di rina come campionessa e se anche voi avete paura di avere una cazzo chiama come prossima campionessa future of stardom detto questo e vi ringrazio per avermi ascoltato è stata una review come vi dicevo un po più colta che normalmente siamo in due riusciamo magari a spalleggiarsi un po a portare due pensieri un po diversi in questo caso ero da solo alcuni di voi probabilmente i miei ragionamenti li sapevano già perché avevo fatti un po in live per gli altri grazie per avermi ascoltato vi aspetto in live su twitch stasera per vedere lo show dedicato al quinto anniversario dei miei surruga e se no ci vediamo prossimamente con un nuovo lariatto sicuramente una settimana prossima non sappiamo ancora bene su che cosa probabilmente non c'è uno anche verso fine settimana vediamo un attimo come riusciamo a ingestrare bene i tempi e le uscite sul canale comunque restate sintonizzati qua su youtube lasciate un like iscrivetevi commentate fate tutto quello che dovete io vi ringrazio ancora sono michele una delle voci di lariatto e del lato viola del ring e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao